Le Camere di Commercio italiane all'estero Le Camere di Commercio italiane all'estero sono associazioni di imprenditori e professionisti italiani ed esteri nate e sviluppatisi oltre un secolo fa nei luoghi di maggiore presenza italiana. Fortemente radicate sui territori esteri e riconosciute dal governo italiano come parte integrante del sistema della promotion pubblica a sostegno del Made in Italy, le CCIE sono un partner di primissimo riferimento per le imprese che intendono attuare la propria strategia di internazionalizzazione. Ogni anno le Camere realizzano un programma promozionale nei settori trainanti del Made in Italy e in quelli più innovativi, in raccordo con le direttive del Ministero dello Sviluppo Economico e in partnership con i principali soggetti della promotion italiana e del sistema bancario. Le Camere valorizzano il patrimonio economico-culturale dell'Italia, diffondono la tradizione e il saper fare dei territori d'origine per la tutela della loro tipicità. Rispondono alla domanda di servizi che le imprese pongono. Orientamento strategico al Paese, supporto operativo per l'inserimento delle imprese sui mercati, assistenza per ricerca di nuovi sbocchi, sviluppo di azioni di marketing territoriale, individuazione dei migliori partner. Sono le principali attività che le Camere realizzano e da cui si rivolgono oltre 200.000 imprese annualmente per affermare e rafforzare la propria posizione sui mercati esteri. Le Camere di commercio italiane nel mondo, con la loro esperienza e competenza, fanno sì che il dialogo con l'impresa si svolga in un clima di fiducia e nel quadro di relazioni con le business community estere che le Camere hanno saputo consolidare negli anni. In questi anni, il legame tra la rete camerale italiana e italiana all'estero è diventato una partnership qualificata e vincente, un vero e proprio valore aggiunto per lo sviluppo dei territori e l'internazionalizzazione delle imprese. Le Camere italiane all'estero sono il più diffuso network di comunicazione per il business italiano nel mondo. Con il sistema informativo Planet, le Camere diffondono opportunità d'affari e notizie di servizio alle imprese, alle istituzioni e agli operatori del commercio estero e si collegano con altri strumenti informativi di servizio per le imprese. Attraverso Asso Camere Estero, l'istituzione che le rappresenta e che svolge il ruolo di garanzia e di assistenza allo sviluppo progettuale, le CCIE sono sempre più visibili in Italia e percepite dai principali media. Camere di commercio italiane all'estero, la soluzione per i tuoi problemi di internazionalizzazione.